È di un paio di mesi fa una storia pazzesca che ha cambiato completamente il modo in cui si guarda ad uno degli FPS tattici più in voga attualmente nello scenario videoludico, Escape from Tarkov. Lo youtuber Goat, sul suo canale, seguendo le lamentele, specialmente lato Twitter della community del titolo Battlestate, che accusava una immensa quantità di cheater sul gioco, ha voluto fare un esperimento, dal quale non si sarebbe più tornato indietro. Ha installato lui stesso un Wallach e si è messo a giocare registrando il tutto, ha fatto diverse partite, per scoprire quale fosse la verità nascosta dietro a queste dicerie. Il risultato finale è un video che ha cambiato per sempre il modo di guardare ad Escape from Tarkov. Escape from Tarkov è un titolo rilasciato nel 2017 e che ha avuto il suo sviluppo fin dal primi mesi del 2012. Si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona, tra l'altro multiplayer, e molto legato ai raid, quindi con l'idea proprio che ci siano delle sessioni di gioco in cui bisogna fare razzia di oggetti e tornare alla base per migliorare il proprio equipaggiamento. Ambientato tra il 2015 e il 2026 in uno spazio fittizio, diciamo in questa zona speciale economica di Norvinsk, che in sostanza è un piccolo ponte economico tra l'Europa e la Russia, Escape from Tarkov ha luogo, dopo alcuni scandali politici, il collassare di alcune corporazioni vicino al centro città della principale, della major city di Tarkov. Nel 2022, per darvi un'idea, Escape from Tarkov contava all'incirca 305 milioni di ore guardate all'interno del gioco. Per quanto riguarda invece la scena sportiva, non è proprio un titolo che si rifà molto al competitivo, con un totale di poco più di 100.000 dollari complessivi assegnati per quanto riguarda proprio le competizioni su questo videogioco. Un altro dato che abbiamo a disposizione è che nel solo 2020, Battlestate da Tarkov, ha più o meno raccimolato 120 milioni di dollari. Quindi è un titolo che nasce nel 2017, che nel 2022 aveva un sacco di ore guardate e che comunque, tra questi due estremi, ha comunque fatto dei soldi. È un titolo a pagamento, la versione base costa all'incirca una quarantina di euro e quindi tutto sommato il lancio è stato buono, così come il suo sviluppo nei cinque anni successivi. Per darvi anche un'idea, MMO Stats ci dice che i giocatori totali di Tarkov sono all'incirca 14,4 milioni. Il dato ufficiale però non lo abbiamo perché non hanno mai rivelato il numero di giocatori presenti sulla piattaforma. Eh, c'è il vetro, ma d'ho fatto... No, sono morto io. No, sono morto anch'io. Ora, per spiegarvi Tarkov, è come un'esperienza che è super simulativa, infatti è un gioco molto difficile da imparare, e quello che bisogna fare è entrare all'interno di queste mappe, di questi raid, quindi equipaggiarsi nel menu di gioco, e poi proiettarsi all'interno di questa zona economica speciale, in questo spazio di fatto di guerra. All'interno di questo spazio non avete delle vere e proprie regole. L'idea è quella di portare di nuovo nel vostro bunker degli oggetti nuovi, quindi far progredire il vostro personaggio, sia tramite magari l'esplorazione, quindi trovando delle ceste o eliminando avversari, sia attraverso delle missioni che sono riscattabili all'interno della vostra base. Tarkov quindi non è un gioco che è necessariamente legato ad avere un obiettivo, siete anche voi che potete darvelo, siete anche voi che potete giocare a squadrone oppure da soli, per cercare o di ottenere determinati equipaggiamenti o di completare delle quest, e in più la partita finisce quando voi decidete di ritirarvi, oppure quando il server sta per chiudere. Quindi in sostanza in qualunque momento voi potreste prendere e tornarvene in base, tutto quello che è importante è ottenere degli oggetti rari o comunque provare per l'appunto ad ottenerli. Capirete bene quindi che in un gioco di questo tipo, che è molto molto lento, le fasi di shooting sono davvero l'1% rispetto all'esperienza completa, che è più diciamo proprio a livello militare, con l'idea di essere ben assortiti e anche molto tattici qualora foste accompagnati da una squadra, ma comunque in linea generale si tratta davvero di entrare dagli spazi giusti, assicurarsi che non ci siano nemici, perché si viaggia davvero a una velocità proprio di guerra lentissima per ottenere o alcuni equipaggiamenti all'interno di strutture, oppure andare a completare delle missioni. Date queste informazioni, Tarkov è un gioco che non soffre magari aimbot, quanto magari dei piccoli aiuti alla mira, come altre tipologie di giochi che, diciamo, sono nate sull'idea del combattimento contro altre persone, perché magari si respone, eccetera. Tarkov è un gioco che in fase di combattimento simula alla grande non solo lato armi, ma anche lato danni ricevuti, quindi con la possibilità di rompersi una gamba, un braccio, avere problemi a livello di tenere l'arma, eccetera. Di conseguenza, capirete bene che può sicuramente essere un'idea quella di avere qualche aiuto esterno lato mira, ma è ancora più importante il problema del Wallach. Per questo video mi piacerebbe più che altro concentrarmi sull'idea non tanto di Wallach, quanto di ESP, la Extra Sensory Perception, che sarebbero tutti quei trucchi che ti danno modo di capire dove si trovano gli avversari. Siamo comunemente portati a chiamarlo Wallach, quindi, diciamo, la possibilità di vedere attraverso i muri i vostri avversari, tuttavia escludiamo il vero apporto di un ESP, di cui il Wallach è solo una componente. L'ESP ti dà anche magari una minimappa con la presenza dei tuoi avversari, con addirittura il punto in cui questi stanno guardando, e ancora, un ESP potrebbe dirti quanta vita hanno, che equipaggiamento portano, oppure dove si trovano i tesori della mappa. Quindi, classicamente, siamo abituati a dire quello al Wallach, perché ci vede attraverso i muri. L'ESP, tuttavia, non ci dice soltanto dove si trova l'avversario, ma anche in che direzione guarda o dove si trovano gli oggetti più importanti. Per Tarkov, l'ESP è come una miniera d'oro. Non è tanto il discorso legato agli aimbot, vi ripeto, le situazioni di combattimento sono davvero poche per quanto riguarda Tarkov, e avere un vantaggio, come quello di sapere già dove si trovano i tuoi avversari, dove guardare, è un vantaggio enorme. E questo, nella community, ha portato davvero ad un enorme dilemma. È possibile che all'interno di ciascun raid sia presente almeno una persona che fa uso di questa tipologia di cheat? Negli anni questo dubbio è cresciuto, e arriviamo quindi al video di Goat, uno dei massimi esponenti di Tarkov per quanto riguarda YouTube nel mondo. Due mesi fa, Goat, seguendo tante delle lamentele sia sul Reddit che su Twitter della community di Tarkov, si è chiesto se effettivamente fosse possibile che all'interno di ciascuno dei raid di Escape from Tarkov ci potessero essere delle persone che hanno dei vantaggi effettivi circa la visualizzazione degli avversari. Su Tarkov, avere il vantaggio e vedere per primo l'avversario è una cosa importantissima, perché ci vuole poco a eliminarli. Chi viene eliminato, a volte, non ha neanche la possibilità di capire da dove giungessero i colpi. Questo porta, diciamo, a un'accettazione passiva. Mi hanno eliminato, mi hanno visto, cavolo. Capite bene che se tu non hai neanche la possibilità di vedere una killcam, quindi come ti ha eliminato il tuo avversario, molto spesso si dice, vabbè, è andata così, è stato più bravo, mi ha visto prima lui, pace. Goat, con il suo video, riprende quindi alcune delle situazioni davvero al limite che ci potevano essere su Escape from Tarkov, in cui si accusava davvero una presenza massiccia, da questo punto di vista, di Wallhacker. Il suo video ha raccolto quasi 3 milioni di visualizzazioni in questi ultimi due mesi, ma cosa è successo davvero all'interno di questo video da destare così tanta attenzione? Nella prima parte del video lo youtuber si dà le regole e fa capire qual è l'impostazione del suo video. Innanzitutto, trovando una persona che utilizza cheat su Tarkov, riesce a scaricare un ESP, o Wallhack, se volete semplificare il tutto. La sua missione sarebbe stata quella, senza sparare e senza ovviamente dare fastidio all'interno della partita, di capire quanti altri giocatori fanno uso di ESP o Wallhack all'interno di una singola lobby. Tuttavia, all'inizio, con Wallhack attivo e quant'altro, non va come lui spera. Riesce a capire indirettamente quali sono i giocatori che non utilizzano Wallhack perché questi ultimi sono, diciamo, ignari della sua presenza. Altri invece sembrano più sospetti, ma non riesce davvero a trovare un modo per incriminarli. Non riesce a trovare alcuna modalità di capire, se non diciamo in modo super indiretto, se le persone che vede attraverso i muri con il suo cheat stiano facendo utilizzo di ESP. Poi l'illuminazione. Entrando in un edificio, vede al piano superiore una persona accucciata. A questo punto vuole trovare un modo per comunicare con quella. E qua gli riesce la vera genialata, che dà anche il titolo al video, ovvero il Wiggle. In sostanza comincia a oscillare, dato che su Tarkov c'è la possibilità di esporsi dietro a un muro a destra e a sinistra, e lui comincia a oscillare a destra e a sinistra. Attraverso il muro lui può vedere quello che è lo scheletro del suo avversario, e questi gli risponde. Ovviamente questo fa capire che anche l'altra persona, dall'altra parte del muro, sta utilizzando ESP. Da questo punto in poi del video, che è all'incirca all'inizio, comincia tutta una serie di partite, in cui lo YouTuber riesce a trovare il modo efficace per comunicare con altri. Tramite il Wiggle, quindi tramite questo movimento improvviso che fa con la telecamera e con il suo personaggio, anche a distanza, riesce a trovare decine e decine di wallhackers. Nel video lo YouTuber dice di aver fatto all'incirca 125 raid utilizzando ESP e cercando all'interno di questi delle persone che utilizzassero in modo attivo ESP. e all'incirca in 70 di questi, il 60%, più o meno questo è quello che dice lo YouTuber, ha trovato almeno una persona che usa wallhack. Tra l'altro, il video di 40 minuti testimonia tutte le volte in cui è stato, non solo individuato da altri che utilizzano cheat, ma a volte anche eliminato da questi. Terminato il video e lanciato su YouTube, la reazione è stata molto molto forte. Quello che viene da chiedersi, ragazzi, è ovviamente perché dovrebbero utilizzare un ESP le persone per andare a sapere non solo dove sono gli avversari, ma anche dove si trovano i tesori. Tarkov è un titolo che permette a coloro che hanno degli oggetti davvero rari addirittura di poterli rivendere e quindi di farsi dei soldi. Esiste quindi una economia tutta legata al mondo di Tarkov che grazie ai trucchi come ESP e wallhack si può, diciamo, velocizzare su alcune account, quindi si può entrare in un ride, si possono prendere degli oggetti molto rari per poi andarli a scambiare addirittura con soldi reali. In sostanza, una persona entra in un ride, scopre subito se c'è un oggetto raro, se questo c'è, prova ad andare a prenderlo. Una volta preso, può venderlo su un sito terzo per soldi reali e fare lo scambio all'interno del gioco una volta che il pagamento è stato fatto. Capite bene quindi che Tarkov per molto tempo ha avuto questa configurazione, rendendo di fatto coloro che utilizzano ESP, wallhack e chi dir si voglia molto propensi a farlo per ottenere dei soldi. In alcuni video della community YouTube sempre di Tarkov ho trovato alcune persone che proprio cercavano di far capire come alcuni, specialmente nell'est Europa, vivessero addirittura di questa tipologia di economia. con l'idea dei cheat, senza disturbare le persone da un certo punto di vista, perché come vi dicevo non si tratta di oggetti che tu rubi a coloro che sono nel raid, bensì di oggetti che tu vai a cercare all'interno di questo. Una volta preso l'oggetto si può uscire e si può scambiare. Il video di Goat si inserisce all'interno di questa situazione. È ovvio che alcuni giocatori non lo facessero per soldi, ma semplicemente attivassero gli ESP e il wallhack per essere più veloci nel loro grinding, nella loro progressione, per diventare più forti, con oggetti più rari e quindi più pericolosi all'interno dei raid. Per parlarvi meglio della situazione su Tarkov ho voluto intervistare un mio amico che è uno dei massimi esponenti per quanto riguarda i live stream della community di Tarkov e grandissimo appassionato con migliaia e migliaia di ore sul titolo di Battlestate. Frouse. Per tua esperienza, come si è evoluto il gioco dai suoi primi anni dal release fino al 2023? Tarkov, a partire dalla sua release in alfa, praticamente è diventato un altro gioco fino al 2023, nel senso che è stata una grande evoluzione dal punto di vista tecnico della community, delle mappe e dell'esperienza in generale, perché il gioco è stato molto seguito e è stato aggiornato in continuazione anche perché la Battlestate è diventata un team bello grande nel seguire il gioco. Il più grande cambiamento di Tarkov è stato intorno al 2020-21 più o meno con la pandemia perché è stato scoperto da streamer più grandi diciamo così perché inizialmente durante il periodo dell'alpha quindi a partire dal 2007-2008 eravamo in pochissimi a proporre Tarkov come gioco in streaming o anche come ho fatto io per esempio in video. Poi quando è stato appunto scoperto da streamer più grandi ha avuto più attenzione ed è cresciuto parecchio cambiando anche un pochino la sua community però fortunatamente dico fortunatamente dal mio punto di vista è rimasta sempre vicino a un pubblico molto adulto anche perché è un gioco complesso che richiede molto tempo per essere appreso e soprattutto molta pazienza cioè non è un gioco molto immediato nell'utilizzo e nell'apprendimento certo quindi diciamo che richiede una certa attenzione soprattutto oserei dire anche dedizione per imparare a giocarlo bene basti dire anche che la Battlestick mette a disposizione i cosiddetti Sherpa ossia giocatori esperti che sono certificati dal gioco che su richiesta giocano con te per insegnarti le tecniche base le mappe e tutto quello che vuoi imparare quindi non essendoci un vero e proprio tutorial del gioco anche perché sarebbe impossibile ci sono effettivamente delle persone riconosciute che insegnano i nuovi giocatori a giocare cavolo questa non la sapevo tra l'altro effettivamente è super simulativo quindi ha davvero tantissime sfaccettature da andare ad apprendere e ha anche senso che ci siano gli Sherpa come hai detto a te che ti diano una mano a impararlo ma invece nello stato attuale anzi più che altro nell'ultimo nell'ultimo anno il gioco secondo te è stato intaccato dai che che è stato l'esperienza dei suoi giocatori in qualche modo oppure no tantissimo purtroppo tantissimo perché Tarkov è un gioco dove prendi con le pinze quello che ti dico è facile cittare nel senso che se per altri giochi per altri titoli ti accorgi facilmente se una persona sta cittando su Tarkov no per esempio se uso un Valorant dico proprio un titolo per fare un esempio nonostante abbia un sistema anti cheat abbastanza buono su un Call of Duty su un Counter Strike ti accorgi subito se qualcuno sta cittando magari se utilizza in bot se ASP le noti queste cose perché appunto noti che quella persona fa delle cose cosiddette sporche appunto poi si è in pochi giocatori ci si riesce facilmente a monitorare ed è tutto quanto molto pulito Tarkov appunto essendo un gioco dove il tatticismo è reso bene o male bene dal punto di vista del realismo è normale diciamo anche in un considerando un ambiente ipoteticamente senza cheater è normale morire all'improvviso senza accorgerti manco da dove magari ti ha preso una persona da 4-500 metri in headshot da un punto che tu neanche potevi immaginare di guardare magari anche contro luce e lì praticamente dici cavolo questo non l'ho proprio visto diciamo che appunto ti dicevo è facile cittare nel senso che è un titolo che se uno sta utilizzando dei cheat riesce a camuffarsi molto bene sì perché ci sono meno esperienze di fight puro come dicevete su magari COD Valorant e altri giochi riesci ad avere più test in meno tempo rispetto magari a un Tarkov dove l'esperienza di shooting è un po' il climax di tutto quello che c'è prima l'esperienza di shooting di Tarkov è ma è proprio così è proprio pensata per essere così è ingiusta nel senso che su Tarkov se giochi da solo ti puoi trovare tranquillamente team di 2, 3, 4, 5 persone si è tutti quanti insieme a tutti i livelli senza matchmaking di esperienza o quant'altro quindi si è buttati nei server come capita appunto questo per dare più un'idea di situazione reale e non tutti quanti messi allo stesso livello per questo mi riferivo al fatto che fosse ingiusto dato che tu non sai magari durante un fight o quando accade qualche situazione se sei contro una persona contro due contro tre contro quattro contro cinque o contro più di un team è molto più facile appunto fare cose losche senza essere beccati diciamo così poi non essendoci una killcam non potendo vedere determinate statistiche perché tu su Tarkov una volta che sei morto sei morto rimane sempre tutto molto dubbio ecco questi che che hanno rovinato l'esperienza secondo te riescono a guadagnarci qualcosa da Tarkov cioè il gioco comunque ricordiamo costa 40 euro nella versione base queste persone che riescono tramite il cheating anche addirittura guadagnarci qualcosa quindi farne proprio un'attività secondo te hanno in base al tempo anche che vanno ad impiegare riescono sia a rifarsi dei soldi dell'acquisto del gioco e anche a ovviamente guadagnarci qualcosa sopra lucrarci in passato era molto più facile lucrare su Tarkov adesso è molto più difficile perché l'unica vera maniera e non è neanche sicura perché è facile venire beccati diciamo ogni tanto Battlesite fa dei controlli sugli account sulle mail che hanno comprato il gioco e sulle mail che effettivamente lo utilizzano prima era più facile riuscire a fare del trading illegale perché appunto prima era molto più selvaggio il gioco siccome era diventata una piaga quella del trading all'interno del gioco la Battlesite è corsa ai ripari e ha imposto praticamente tantissimi vincoli per esempio oggetti particolarmente rari che vengono trovati che tu appunto sono cosiddetti founding ride che trovi durante le partite che possono interessare ad altri giocatori sia per quest come valore o come utilizzo non puoi semplicemente darli ad altri giocatori droppandoli all'interno del gioco perché vengono eliminati infatti c'è tutta una lista di oggetti che vengono eliminati se vengono droppati a terra il gioco fortunatamente ti avvisa oppure all'interno del mercato interno del gioco il cosiddetto flea market ci sono delle tasse altissime se tu praticamente richiedi uno scambio di un oggetto di poco valore con uno che ne ha tantissimo cioè per esempio più sono vicini i valori dei due oggetti che tu chiedi a scambiare più basse sono le tasse più alto è il divario più alte sono le tasse quindi si cerca di eludere questo sistema in questa maniera in maniera tale che proprio non diventi conveniente o addirittura impossibile scambiare oggetti quindi da questo punto di vista si è riusciti a risolvere la questione del trading però il problema cheater rimane ed è molto attuale anche perché come ho detto è facilissimo camuffarsi all'interno di Tarkov se sei un cheater quindi tutti questi provvedimenti che tu hai citato sono conseguenza del video di GOT nella community secondo te e che impatto ha avuto questo video allora no il diciamo tutti questi effetti diciamo che ha avuto la battle state esiste cioè sono stati introdotti man mano negli ultimi due tre anni circa per esempio inizialmente non si potevano vendere determinati oggetti sul free market poi c'è stata l'introduzione di tasse più alte a seconda appunto del divario dei valori degli oggetti poi appunto tra le cose più recenti il fatto di non poter droppare oggetti in game man mano diciamo è stata graduale questa introduzione l'effetto che ha avuto quel video purtroppo è è stato quello di sfiduciare l'utenza perché Tarkov rispetto a molti altri titoli è un gioco oltre che impegnativo anche molto frustrante perché richiede molto tempo non solo di gioco normale ma anche di organizzazione per esempio tu impieghi 5-10 minuti organizzarti a crearti l'arma farti l'equipaggiamento fare il matching metterti in partita trovare appunto il server e rientrare in partita tra l'altro ha dei tempi molto lunghi Tarkov perché ha un sistema ha un netcode e un sistema di matchmaking come posso dire legnoso ecco diciamo così quindi magari per entrare all'interno di una partita ci puoi mettere 5-10 minuti quindi sono già bastati 20 minuti tu dopo 30 secondi un minuto che sei in partita viene ucciso da qualcuno quindi diciamo che perdendo tra l'altro pure tutto quello che hai ed è una cosa che appunto innervosisce molto quindi quando si inizia ad entrare quella loose streak tremenda diventa brutto poi se aggiungi il video dove dimostri che ci sono tantissimi cheater all'interno del gioco questo ti speduce a tantissimo giocare perché magari se tu in partite precedenti che hai fatto avevi il dubbio di essere entrato in contatto con un cheater per situazioni ambigue lì puoi pensare ok se sono così tanti cheater molto probabilmente sono stato ucciso da un cheater quindi non ci voglio giocare più e l'effetto di quel video si è fatto sentire cioè anche anche per me che sono un giocatore che ha oltre 10.000 ore su Tarkov l'effetto si è fatto sentire nel senso che magari se prima continuavo a insistere nel gioco adesso magari se iniziano a entrare situazioni strane o ambigue di fila all'interno del gioco cambio cioè cambio per quella sera non continuo a giocarci certo insomma l'azione di uno youtuber ha avuto un impatto diretto sul videogioco scoprendo un vaso di Pandora all'interno del quale vi era non solo un business per quanto riguarda i cheater ma molti dicono che ci fosse anche un business per la compagnia perché un account bannato è un account che poi va a essere ricomprato ridando dei soldi all'azienda quello di Goat è stato un gesto anche rischioso sebbene lui non abbia utilizzato i cheat per sparare o rovinare l'esperienza di gioco ha sicuramente in un certo diciamo modo compromesso la sua figura di giocatore di Escape from Tarkov io sono sempre contro l'idea anche diciamo a livello di indagine barra di report di scaricare cheat per fare cose di questo tipo ad ogni modo ha avuto davvero un enorme impatto all'interno di reddit di twitter e non solo per il titolo di Tarkov come avete sentito da Fraus sono stati presi dei provvedimenti sia prima del video sia da pochi mesi fa per contrastare sia all'interno del gioco per quanto riguarda i blocchi le tasse degli scambi di oggetti che magari era quello che succedeva una volta una volta che tu compravi l'oggetto raro su un sito esterno arrivavi all'interno dello shop e il tizio ti dava un oggetto che valeva un sacco e ti chiedeva in cambio magari una benda ora questo non si può più fare per evitare proprio degli scambi esterni a Tarkov in cui le persone ci guadagnano abbiamo anche sentito come è stato proibito lo scambio di oggetti all'interno di stash quindi la possibilità di droppare di lasciare all'interno del ride un oggetto raro insomma sono stati presi dei provvedimenti ma la situazione sicuramente è ancora particolare perché un impatto importante lo ha avuto anche sull'utenza quello che è stato il video dello youtuber insomma questo è stato uno degli spartiacque della community di questo gioco e fa vedere come uno youtuber abbia preso il sopravvento e rivoluzionato un'intera scena tuttavia c'è una frase all'interno del suo video che voglio riportarvi anche se ho promesso di tenerlo anonimo sapevo che coloro che hanno sviluppato i cheat avrebbero trovato un modo per capire che è stato lui a diffondere queste immagini e Voker aveva più paura di essere scoperto da coloro che sviluppano i cheat piuttosto che dagli sviluppatori del gioco questo ci racconta che parallelamente al videogioco esisteva un business che porta davvero tanti soldi ne parliamo in un altro video per tutti coloro che i cheat li sviluppano grazie a tutti Grazie a tutti.